Di Matteo Renzi si è detto l'erede politico che Berlusconi non l'ha avuto. Avete avuto momenti di grande simpatia, avete fatto il patto del Nazareno, lo avete rotto per l'elezione Presidente della Repubblica perché Berlusconi riteneva forse che doveste andare d'accordo su Giuliano Amato e invece lei con un colpo a sorpresa alla fine designò e fece vincere Mattarella. Che ricordo ne ha? È evidente che come tutte le persone a questo tavolo, anche più esperte di me, ciascuno di noi ha dei ricordi politici di Berlusconi, come è evidente, dalla vicenda nel mio caso del patto del Nazareno alle vicende recenti. Però forse nessuno di noi riesce a mettere in fila bene quanto Berlusconi sia stato un innovatore oltre la politica. Cioè paradossalmente nell'esperienza di governo, l'esperienza del governo è stata quella nella quale è stato meno innovatore rispetto a tutte le altre perché ha cambiato la storia dell'edilizia con un modello di città, quella di Milano 2, che era una novità per quei tempi. Poi cambiava la televisione, piaccia o non piaccia, TG5, prima Canale 5, il Mundialito addirittura, la Fininvest. Nel bene e nel male non entro nel merito. Dico soltanto che lui ha innovato e cambiato, poi ha cambiato il mondo del calcio. Pensi che nella seconda metà degli anni Ottanta, quando Berlusconi aveva già due reti, io sono rimasto uomo rai fino alla fine e lo sono tuttora. Disse a Mammi, che era il ministro delle Poste, se non vi sbrigate, quello si prende pure la terza rete e così andò a finire. Cosa è la rete 4? La cosa è la Italia 1? Mi ricordo qual era la terza. Comunque in ogni caso ha innovato. Poi ci sono state le critiche, le critiche della sinistra DC, del PC, sulla vicenda della legge Mammi e sappiamo tutto che è stata sempre una storia complessa. Però è stato un innovatore, lo è stato nel calcio, lo è stato nella forma politica, perché Forza Italia, lo ricordavano prima il presidente Casini e il presidente D'Alema, comunque ha introdotto un elemento di novità tenendo insieme la coalizione, diciamo, antisinistra e contemporaneamente innovando nelle forme. Berlusconi è semplicemente indefinibile, incomprimibile, è impossibile reggimentare Berlusconi in un giudizio. Poi nel caso di specie per me è stato un rapporto molto complesso, nel senso che se io ho perso il referendum lo devo sicuramente anche al fatto che si è rotto quel patto, il patto del Nazareno. Lei non si aspettava che Berlusconi avrebbe deciso di votare contro? No, no, io ero sicuro che dopo la rottura, diciamo, la rottura del post Mattarella non fu il momento, diciamo, più entusiasta dei rapporti con il presidente Berlusconi. E tuttavia c'è un tratto umano, lui non ha mai votato la fiducia al mio governo. Per dirle, Vespa, Berlusconi ha votato la fiducia in alcuni momenti al governo guidato da Enrico Letta. Berlusconi ha votato la fiducia in un paio di passaggi al governo guidato da Paolo Gentiloni. Ma non ha mai votato la fiducia al governo mio, anche se c'era questa storia sul rapporto tra di noi. E tuttavia c'è stata una dimensione umana, personale, che per me è un elemento importante. Cioè l'idea che tra le forze politiche non ci dovesse essere l'odio ideologico. Il fatto che tu fossi dall'altra parte non voleva dire che tu dovevi augurare all'altro, tu dovessi augurare all'altro tutto il male possibile. E in questo io sono contento di aver contribuito nel mio piccolo a stabilire un rapporto più umano, più civile, anche con quella visita ad Arcore, su cui tutti mi contestarono, ma che nasce dall'esigenza del sindaco di Firenze di prendersi 20 milioni di euro della tassa di soggiorno. E Berlusconi fece uno di quei numeri straordinari, perché prima mi disse che c'era già quella tassa. Poi gli disse, guarda, c'è soltanto su Roma. E poi mi spiegò che aveva ragione lui, facendo una modifica alla legge e portando Gianni Letta a dare quei soldi anche al comune di Firenze. Insomma, Berlusconi, poi era da questo punto di vista assolutamente straordinario. La tina solida. Esattamente. Era l'anno della maturità per me. E Berlusconi chi era per voi? Beh, quell'anno lì noi eravamo quelli, io avevo 18 anni, avevo appena fatto la maturità, e però era uno di quelli che già allora non la pensava come Pier Ferdinando. Cioè io pensavo allora che tra chi spingeva per la sinistra, cioè per fare l'accordo con Occhetto e i progressisti, e per chi invece puntava all'accordo con Berlusconi ci fosse uno spazio nel mezzo, che poi in realtà era quello di Martina Zoli e Segni, che fa lì, come si chiama, patto per l'Italia. Patto per l'Italia. Però io non avevo alcun tipo di ruolo. Berlusconi sembrava innanzitutto l'uomo venuto da un altro pianeta, perché davvero nessuno credeva, la stessa cosa a me l'ha detto un amico di Berlusconi, la stessa cosa che ricordavo a Racasini, quando nel dicembre del 21 Berlusconi mandava gli emissari per dire votatemi Presidente della Repubblica. Stiamo parlando della fine del primo Mattarella, prima dell'elezione. Io dissi a un caro amico di Berlusconi che venne a trovarmi e gli disse guarda, spiegategli che ne ha fa, che è impossibile. Io lo dissi anche pubblicamente, non è per lui. E lui fece lo stesso ragionamento. Dice guarda, noi glielo possiamo anche provare a dire a Berlusconi che non è per lui. Però lui ci ripete che Milano 2 non era per lui, che il TG5, il Canale 5 era per lui, che il Milan non era per lui e che il Forza Italia era per lui. La cosa che a me colpisce di Berlusconi oggi è il contrasto tra ciò che noi in qualche modo vedevamo in lui, la causa di tutti i problemi, e la realtà. C'è un aneddoto che mi colpisce, lei si ricorderà a Vespa, la foto di Berlusconi che fa aspettare tutti i colleghi leader europei, perché sta al telefono. Vi ricordate quella immagine? L'immagine è un summit, non so se era un consiglio europeo, un summit nazionale, no, ospiti della Merkel. E ospiti della Merkel. E Berlusconi era in una delle riunioni del patto del Nazareno, gli disse, certo anche te presidente ti metti lì, in quella vicenda lì eri a telefonare, poi eravamo in un ambiente abbastanza, molto istituzionale, ma anche molto scherzoso, era un tono molto scherzoso, e poi dai, eri a organizzare qualche serata. E lui si irrigidisce, cosa che raramente faceva, dice io ero al telefono con Erdogan perché me l'aveva chiesto la Merkel. Ora per l'appunto la sera stessa c'era il nuovo consiglio europeo, io ero il presidente del consiglio, e per l'appunto nel giro dei consigli ero accanto alla Merkel a cena, sì che non mi sono fatto perdere l'occasione, alla Merkel, e le dico durante la cena in una pausa, ma quella volta in cui Berlusconi era a telefonare, chissà chi, e voi eravate ad aspettare, e lei mi guarda e dice, no, 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 gli avevo chiesto io di chiamare Erdogan per discutere della Nato. Non è vera tutta la polemica che ha fatto la sinistra in Italia, allora chiamai e gli chiesi scusa per dire che cosa? Che Berlusconi era diventato un po'... La vulgata è rimasta quella di un maleducato invece. No, ma lì lui... Stava facendo una telefonata... Diciamo, poi, non che Berlusconi avesse, diciamo, il perfetto plomb istituzionale in occasione delle foto di gruppo, come ricordiamo, o dei cucù alla Merkel, però per dire che Berlusconi ha finito per essere, un po' se le cercava lui, e un po' era oggetto dell'odio da parte di un pezzo della sinistra, come irresponsabile di tutto. Cioè, questo clima di odio che c'è stato in questo paese è stato, in qualche misura, uno dei punti di debolezza del bipodarismo italiano. Il bipodarismo funziona se tu riconosci che vince l'altro e lo rispetti. Cerchi lavori per cinque anni per mandarlo a casa, ma lo rispetti. Invece, con Berlusconi questo non è mai accaduto, in parte per responsabilità di Berlusconi, ma in parte anche per responsabilità forse maggiore della sinistra. Antonio Polito, perché è stato così odiato Berlusconi? Si riguarda il funzionamento della giustizia nel nostro paese, su questo credo che... Poi, un'opinione diversa da quella del Presidente D'Alema. Io credo che ci sia, sono d'accordo sul fatto che c'è un problema ampio, e il punto vero è che a Berlusconi è stato riservato un trattamento di due generi. Il primo da parte della sinistra giudiziaria, che esiste. Guardate, io ho scritto un libello, mi è arrivata la lettera di un magistrato di sinistra importante di questo paese che adesso è in pensione, che mi ha scritto noi facevamo parte della sinistra giudiziaria. C'è stata una parte della magistratura, per fare nome e cognomi, segnatamente quella parte che fa riferimento a magistratura democratica, che ha utilizzato, non soltanto nei confronti di Silvio Berlusconi, ma soprattutto nei confronti di Silvio Berlusconi, un attacco indiscriminato e indistinto per decenni. Questo è un dato di fatto. Poi che Berlusconi abbia risposto non con la riforma della giustizia, ma con le leggi ad persona. che ci siano state i problemi. Questa è un'altra parte importante, ovviamente, di discussione, però che ci sia stata un'aggressione giudiziaria da parte di alcune toghe, non di tutte, molte delle toghe di questo paese meritano il rispetto e la stima, ma c'è stata un'aggressione sicura. E poi c'è un altro tema, che è un tema che riguarda tutta la sinistra. come una parte della sinistra, vorrei dire quasi anche editoriale, non solo politica, se posso utilizzare questa espressione che è un po' tirata per i capelli, ha scelto di utilizzare l'aspetto giudiziario come il terreno sul quale fare i conti con Berlusconi. L'Alema ha cercato di farci le riforme 25 anni fa, quando era presidente del Consiglio, io ho cercato di fare le riforme 10 anni fa quando era presidente del Consiglio, Veltroni aveva un tono nel rapporto con Berlusconi, vi ricordate come diceva il mio principale concorrente? Lo schieramento a me avverso, una frase del genere. Però c'è stato oggettivamente in questo paese il tentativo di sbattere fuori Berlusconi dalla politica non attraverso le armi della competizione elettorale, che è assolutamente sacrosanto. Io ho cercato di sconfiggere Berlusconi sul campo politico, ma di fare intorno a Berlusconi la costruzione di quello che era il criminale per eccezione. E questo per me è stato un errore politico che ha pagato più la sinistra che Berlusconi ha pagato un prezzo personale. Però Berlusconi è un signore, io l'ultima volta che ci ho parlato mi ha fatto tutte le volte che faceva l'elenco di quanto spendeva gli avvocati. Il libro di Palamara poi ha dimostrato proprio apertamente. Sulla sentenza in cui lui ha avuto la condanna e c'è anche lì un indagio il CSM però per chiudere secondo me rispetto al ragionamento c'è un problema di giustizia in Italia? Sì. Berlusconi è stato un grandissimo protagonista dell'impresa quindi sicuramente si può discutere di tutto quello che hanno fatto le sue aziende quello che si vuole ma che ci sia stata un'aggressione giudiziaria nome e cognome di una parte della magistratura essenzialmente legata al mondo magistratura democratica per me negarlo oggi significa negare la realtà. Per chiudere su questa parte dal mio punto di vista noi possiamo ed è appassionante rileggere quello che è successo negli ultimi 30 anni quel bossi lì che faceva gli accordi con D'Alema poi dopo andava a prendere l'ampolla del Dio Po cercava la secessione poi tornava con Berlusconi anche personaggi diciamo di straordinaria capacità però c'è un punto fondamentalmente la secessione è normale sì però la verità è si può ragionare della storia di 30 anni e io sono l'ultimo a questo tavolo a poterne parlare poi c'è un punto che secondo me è importante ribadire detto che non è un avviso di garanzia che cambia la storia del paese nel caso di Silvio Berlusconi nel dire che lui poteva reagire in un altro modo che avrebbe dovuto fare tutte altre cose quello che si vuole c'è stata una costante polemica da parte di alcuni ambienti della magistratura che in 29 anni lui diceva secondo me con un tratto leggermente esagerato che gli era costato un totale di un miliardo e cento milioni degli avvocati io ho detto cambia avvocato quando me lo dissi ultima volta per telefono gli ho fatto presidente c'hai delle tariffe alte ma comunque quello che lui ha speso non in termini economici se lo poteva permettere ma in termini umani sulla questione giudiziaria sarebbe secondo me ingiusto non chiamarlo con il proprio nome non si può definire persecuzione no però è una aggressione giudiziaria incostante c'è stata ed ha nome e cognome in primis magistratura democratica io la vedo così e me ne assumo io penso io penso per ritornare diciamo un ragionamento ma che allora era il capo del Corriere e che dice chiaramente che il Corriere pubblica la notizia perché gliela passa la procura se vogliamo raccontare la storia di quella stagione lì io non c'ero è la storia in cui redazioni cioè non era soltanto il buon Brosio sul marciapiede con fede che lo insultava e ogni tanto gli diceva scarsa di che passa il Corriere non doveva pubblicare scusa no no ma non ti sto dicendo questo Antonio sto dicendo che c'era un clima complessivo dove ha ragione Pierferdinando a dire attenzione perché c'è stato anche in qualche modo una sorta di occhieggiamento verso il populismo ma era un tema molto più complesso di quello che viene raccontato il punto di Berlusconi il tutto prima dell'abito questo è il punto è che lui capisce la situazione in cui si trova Renzi condivide questa analisi ma sicuramente è andata così nel senso che lui ha costretto la sinistra a rincorrerlo il punto vero forse è stato che lui non è stato capace per mettere un elemento diciamo non in cauda venenum ma di conclusione anche sugli aspetti negativi di fare ciò che aveva promesso cioè lei Vespa ha fatto vedere l'intervista mi pare fosse Alessandro Casarin 3 gennaio 94 30 anni fa dove lui la prima cosa che Berlusconi pone è la questione fiscale sul fisco Berlusconi lo diceva la politica non ce l'ha fatta non ce l'ha fatta che sia colpa di Casini di Follini di Fini dei magistrati pure sul fisco la colpa non ce l'ha fatta quella è ma ha fatto ridere prima Casini diceva ho rischiato di non entrare in Parlamento per la nostra Costituzione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti